Finalmente si ricomincia con i pronostici, una serie che persisterà per tutto l'anno nel mio canale Fatemi sempre sapere i vostri qua sotto con un commento, lasciate tantissimi mi piace, mamma mia Tra quattro giorni ricomincia il campionato e sto gasato Allora direi di partire da Sampdoria, Atalanta perché si apre la Serie A il 13 di agosto Dove sono andata a mettere X perché comunque si, l'Atalanta ha acquistato Lukman Ederson Dalla Serie A che rientra nell'affare Lovato ma appunto le cessioni sono state importanti La stessa dell'ultimo calciatore italiano, quella di Pessina, quella di Guglini Che quindi vanno a togliere qualcosa dall'Atalanta, non arrivata in Europa Secondo me neanche quest'anno ci arriveranno per il semplice fatto che è un ciclo quasi finito Al di là del calcio mercato, Gasperini non mi convince più, brutto mercato anche quello della Samp Che comunque si perdono Sensi, Ekdal, Bonazzoli, Yoshida, giocatori importanti E' vero sono entrati De Pauli, Levar, però poca roba, vedremo se si salveranno Però ho dei dubbi anche qui, anche se secondo me lo faranno tranquillamente Milan-Linese devo dire 1-2,5, ci saranno pochi gol Un lindese che lo scorso anno ne ha fatti tantissimi e ne ha subiti altrettanti Quest'anno ci sarà un pochino più di equilibrio Il Milan che comunque vincerà, i campioni d'Italia vinceranno Quindi meno di 3 gol, questo è il mio pronostico Con ovviamente gli acquisti di Origi e CDK, Charles de la Catteler Il Milan promette bene, poi c'è Adli E sono rimasti i tasselli più importanti Theo Hernandez, Magnan in primis, Tonali, Tomori Quindi è un Milan ben costruito che secondo me non si ripaterà per lo scudetto Ma comunque una bella squadra, l'Udinese rimane comunque insidiosa Ma le eccessioni di Molina e Pablo Mari in fase di Pensicola sono veramente brutali Monza-Torino X, parità secca tra queste due squadre Monza-mercato veramente top, non arriveranno in Europa come molti dicono Ma comunque hanno fatto un grandissimo calcio-mercato in entrata Fin da subito Galliani e Berlusconi si erano fatti un'idea ben precisa Con Sensi, con tantissimi giocatori di qualità Secondo me in Monza farà veramente un grandissimo campionato Anche diciamo però a metà classifica, non di più Poi hanno preso Caprari, Marlon Giocatori comunque importanti, lo stesso Ranocchia Comunque l'esperienza E comunque non si andrà oltre il pari Il Torino che abbiamo visto, le faccende Juric con la dirigenza Un attimo un clima un po' caldo, però comunque non è che il Toro rischia la B Anzi comunque hanno una bella squadra È vero che le assenze comunque di Belotti e Bremer saranno veramente pesanti Perché uno era un muro difensivo pazzesco L'altro comunque leadership, bandiero ormai da anni Sono perdite importanti, ma comunque è un Toro che si salverà tranquillamente Radonjic promette veramente bene Namichievo l'ha dimostrato tanto Vediamo cosa succederà Lecce e Inter due secco Lecce secondo me è una squadra che non è fatta per la Serie A È una esperta difficile, ma l'Inter secondo me in scioltezza riuscirà a vincere questa partita Perché hanno una grandissima squadra E secondo me vinceranno appunto questo scudetto Anche se le insidie sono dietro l'angolo Perché la prima giornata di campionato Ricordiamoci sempre che ogni partita avrà da dire la propria Fiorentina cremonese uno secco Allora secondo me partirà bene la Fiorentina di Vincenzo Italiano Che l'ho vista bene Comunque anche innamichevole E grandissimo calciomercato Tra Guglini, Dodò, Mandragora, Jovic Un grandissimo attaccante di razza Zurkovski Secondo me lotteranno nuovamente per l'Europa Arriveranno in Conference League Vedremo cosa dirà appunto il campo Fatto sa che batteranno la cremonese neopromossa Che io vedo meglio di come vedono molte altre retrocessioni Secondo me si salveranno quegli acquisti Comunque che sono stati importanti Di Radu Portiere dell'Inter Zanimacchia Kirikesh Milanese Diciamo che non c'è molta esperienza all'interno della squadra Ma comunque molti giocatori di qualità Che possono crescere Che possono dare una mano Per la salvezza di questa squadra Lazio-Bologna 1 Secondo me partirà bene la Lazio-Disarri Con una buona marcia Con un bel gioco Che si inizierà a vedere Con uno stadio molto probabilmente pieno Il boom di abbonamenti Anche nell'altra sponda Capitolina La Lazio che comunque ha fatto un grandissimo calciomercato Tra Marco Santonio-Besino E Gira Ma comunque ha preso Lo stesso Marco Santonio-Romagnoli Casali Che comunque va a migliorare la fase difensiva Manca ancora un terzino-sinistro Un vice mobile La Lazio si è imposta veramente bene In questo calciomercato E secondo me quest'anno Attenzione perché possono arrivare nel Champions Ma secondo me Non ce la faranno per il rottore della cuffia Fatto sta che sfida nuovamente Mijainovic Amore eterno tra lui Appunto la Lazio La tipoteria E quindi vedremo cosa succederà Perché Bologna sarà una squadra Veramente molto insidiosa Comunque da battere Acquisti di Cambiaso Che comunque è a Juventus In presidio per quest'anno Dico Giannis Vediamo cosa succederà Poi Spezia Empoli X Io vedo male entrambi Potrebbero scendere tutte e due In Serie B Empoli che deve cambiare assolutamente marcia Se vuole rimanere in questo campionato Perché se continuano come è fatto lo scorso anno Nella seconda parte di campionato Andranno veramente male Malissimo Una brutta striscia Che non devono assolutamente Continuare Lo Spezia Non avere una squadra molto forte Diciamo che L'acquisti comunque E dell'Empoli Di Marin Amers Luperto Sono buoni Però le decisioni Sono veramente importanti Perché perdere in Pina Monti Aslani Veramente una pedina Importantissima Per l'Empoli Zurkowski Perché i biti Che va addirittura all'estero Sono veramente pesanti E attenzione Perché possono pesare Comunque lo Spezia Che mette a segno Qualche giocatore Come Caldarek Dal Maldini Ma comunque poca roba Secondo me rimane Gli 11 dollari In sé Salerno Salerno In San Roma Due Poca roba La Roma deve assolutamente Vincere la prima di campionato Mourinho deve regalare Tre punti Alla Roma Una piazza in estasi Una Roma che può vincere Lo Scudetto Non è l'obiettivo Io non ci credo neanche un po' Credo nel quarto posto Perché l'obiettivo primario Di questa Roma Di Mourinho Che dovrà assolutamente Vincere a Salerno Perché la prima giornata Di campionato Non si possono fare Passi falsi Fin dall'inizio Di Bala Pediglini Abram Matic Zagnolo Wijnaldum Smoling Rui Patrisio Tutte pedine fondamentali Per la Champions League Della Roma Comunque hanno fatto Rievo questi importanti Come per esempio Boteim Come Lovato Che viene appunto Dall'Atalanta A rientrare Nello scambio Con Ederson Insomma Comunque Si sono mossi Abbastanza Bene Le ultime due partite Della prima giornale Serie A Verona-Napoli Allora Qui mi potete criticare Di posti di napoletani Magari mi date De quello che non capisce Di calcio Napoli lo date per morto No Io non lo date assolutamente Per morto Napoli secondo me Arriverà comunque In Europa League Ma io dico Verona-Napoli 1x Il Napoli non andrà Oltre il pareggio Nonostante Verona si sia Debolita un sacco Non sono ancora arrivate Tutte le decisioni Definitive Ma molto probabilmente Partiranno tutti Big Barak Simeone Tantissimi giocatori Di qualità Che il Verona Lo auguro Dare oltre il pareggio Tant'altra cosa Di Uricic Che comunque Che comunque Era un giocatore di qualità Insomma Stasola ha perso Tantissime pedine fondamentali Le sta perdendo Sempre di più E secondo me Quindi non andranno A Saparei Su Nello stadio Noi ci vediamo Alla prossima Sempre comunque Forza Grande Roma Pronostici Finalmente Ciao